Buonasera e benvenuti nella rubrica verso le elezioni, una rubrica che abbiamo concepito per dare la possibilità ai cittadini catanesi di farsi un'idea sulla personalità dei sette candidati alla carica di sindaco e soprattutto per cercare di offrire a tutti la possibilità di una partecipazione attiva alle elezioni e di una scelta consapevole. Ospite in studio questa sera è l'avvocato Libera che io naturalmente ringrazio per aver accettato il nostro invito. No, sono io che ringrazio a voi, ci mancherebbe, anzi. Avvocato, lei è un penalista, come dire, di successo. Beh, troppo buono. Chi gliel'ha fatto fare? Sto sbaglio le non ci venne. Accidentarsi in questo impegno. A Catania direbbero sto sbaglio le non ci venne. Allora, le devo dire che era lontano da me pensare una cosa del genere. Poi c'è stato un attimo di profonda coscienza. Credo che sia stato un istinto, come la chiamava uno che fu il mio maestro, anche se per poco tempo, Marco Pannella, è stato un gesto di follia della ragionevolezza. Siamo arrivati veramente al limite a Catania, quindi bisogna che le persone che non sono politicanti di mestiere si impegnano e quindi è facile dire le cose vanno male, scommettiti. Io in ogni caso credo che per me questa campagna elettorale è stata un successo perché ho avuto modo di, io che già ne conoscevo tanta umanità, conoscere una umanità globale, sofferente, mi arricchisce molto. Vorrei che si smuovessero le coscienze di coloro che per esempio non vanno a votare e hanno ragione perché i mercenari della politica sono riusciti a fare disaffezionare tutti, specialmente nei quartieri poveri. Avvocato, mi dica una cosa. Lei vive a Catania e sa che la nostra città è afflitta da tantissimi problemi, da quello relativo alla raccolta dei rifiuti, al traffico caotico, a un degrado complessivo della città e anche alla mancanza di sicurezza che non si avverte solo nei quartieri periferici, popolari, ma anche al centro. Ecco, rispetto a questi problemi, lei ha una ricetta? Io ho una ricetta di come affrontare tutte le problematiche e la ricetta è solo passione, amore, impegno. L'onestà è una cosa ovvia. Affrontandola quotidianamente con persone che la pensano come te, qualcosa si riuscirà a fare. Non solo per il problema atavico ormai della spazzatura. Ad esempio, io sostengo che bisogna togliere questo schifo dei cassonetti messi davanti all'androne la sera. Dobbiamo ritornare ai cassonetti. A Verona ci sono i cassonetti smart, i cassonetti intelligenti, è una città pulita. Per quanto riguarda il traffico, ma signori miei, siamo stati in mezza gente che voleva chiudere il Viale Vettore Veneto. Allora hanno messo questi filoni qua per la strada, come li chiamano, manco mi spugge pure il nome. Oppure decidere delle isole pedonali dove non passano pedoni. A Via D'Usmet è servita solo, chiudere la Via D'Usmet è servita solo a impoverire ancora di più i mercanti della pescheria. Le cose vanno fatte con la testa, non così, col fanatismo. O io odio qualsiasi tipo di fanatismo. Poi ci sono tanti altri problemi. Ancora oggi io ero bambino e io sono vecchio. C'è poco da fare anche se sembro giovane. Sono vecchio. Ero bambino e se si andava a parlare di corso dei martiri. E ancora è da. E ancora è bloccato. Se mi sederò a quel tavolo e avrò modo di capire, mi credo, ci metterò tutta l'anima per risolvere queste cose ataviche. Per quanto riguarda la sicurezza, è chiaro, io immagino che non ci sia coordinazione fra le forze dell'ordine. I giovani sono pochi che dobbiamo batterci per farli aumentare, ovviamente. Io gli ultimi, io ebbi una parentesi politica nel 90, ero assessore al personale, mi portò il decreto, la buonanima di Rino Nicolosi, era Presidente della Regione. Grande Presidente della Regione. Grande, grande, grande. Ne ho assunti 350, ma credo che ne è rimasto il 25%. Gli altri stanno pure andando in pensione, quindi siamo un organico sotto zero. Ma comunque, con quel poco che c'è, si deve coordinare l'impegno con le forze di polizia, polizia, carabinieri, guardia di finanza, cioè fare in modo che ci sia un po' di sicurezza, un po' di ordine. Questo è assolutamente importante. Lei legge i giornali, segue certamente anche le varie proiezioni che si fanno rispetto all'elezione. Sembra, leggendo i giornali e seguendo tutti i sondaggi, che il centrodestra a Catania sia una sorta di armata invincibile. Ma non sarebbe stato meglio da parte di tutti quelli che in qualche modo sono contro il centrodestra, mettersi insieme e, come dire, far diventare la partita un po' più aperta. Mi pare che lei, a questo proposito, aveva fatto una proposta. Io lanciare un appello. Ma, premesso che io non oso lottare contro il centrodestra o il centrosinistra. Porta avanti le idee del Movimento Popolare Catanese, che prima di me, del 1991, fondavo oltre cento anni fa Giuseppe De Felice, il grande, il nostro grande cittadino, nostro paccio, chiamavano i catanesi. Al suo funerale ci furono centomila persone, lui aveva un soldo in tasca. Però con tanta amore fece passiature, fece qua a Piazza Siasicuro queste opere che ancora ci sono, creò il panificio municipale. Quindi, lo diceva De Felice, poco importa che lo dico in chi ora, i problemi della città non sono né di destra né di sinistra. Le contrapposizioni ideologiche proprio sono orrende, perché a Lambadina la via Belfiore, la via Belfiore, non so se lei lo sai, è una travesta di San Cristoforo che poi è da sola più previscito. Evidentemente, ancora oggi non lo capiscono i signori che io chiamo mercanti del Tempio, né quelli di destra né quelli di sinistra. E gli altri sì, ci sarebbero uniti. Infatti dico, non votate per forza avvocato Giuseppe Libero, per Piero Libero, non siete obbligati a farlo, ma non votate né per Trantino né per Caserta. Trantino che è l'erede di Salvopogliese che ci ha fatto rimpiangere Enzo Bianco, le ho detto tutto, e Caserta che è l'erede di Bianco. Votate per chi volete, ci sono persone meravigliose, in altre liste civiche, ma non votate per i soggetti amanti della partitocrazia. La partitocrazia a livello parlamentare ci sta, dobbiamo votare per la guerra in Ucraina se va in Parlamento, non certo al Comune di Catania, abbiamo problemi un po' diversi. Se lei prevalesse in questa sfida, se vincesse queste elezioni, che cosa farebbe nei primi cento giorni? Questa dei cento giorni, me la sento sempre dire, i primi cento giorni, intanto capire bene tutti i problemi, radunare tutti i capi settore, che ora si chiamano direttore, e dopodiché fare una scaletta e cominciare a darsi da fare per risolvere i problemi. Una cosa che farei da subito è incontrare, non dico quotidianamente, ma periodicamente i cittadini, perché i cittadini, se io fossi proprietario di un'industria e chiamo a lei come manager e lo scelgo in mezzo a altri manager perché lei ha un bellissimo curriculum, io proprietario dell'industria devo dire a lei, senti a me mi interessa che mi risolvi questo problema, questo problema, questo problema. Ora, a parte le grandi cose che fra l'altro le abbiamo già citate, le altre cose me le devono dire i cittadini, i padroni di questa industria, di questa grande città, di questo grande condominio, io così la ragiono. Avvocato, lei è la prima volta che viene ospite nei nostri studi. Mi dispiace che è la prima volta perché mi trovo benissimo, voglio tornare. Con piacere, e non sa la regola che noi abbiamo. Quale? La nostra regola è quella che non concludiamo mai le trasmissioni. Bene. Diamo la possibilità all'ospite di concludere in un minuto, in un minuto e mezzo, perché magari può avere l'esigenza di dire qualcosa che si è dimenticato di dire, o perché vuole fare un appello. Avvocato, lei ha un minuto e mezzo. Io la ringrazio per questo minuto, ma con le sue domande intelligenti, profonde, è riuscita a farmi esternare il mio pensiero. Io oggi, ieri, domani, ho girato quartieri, quartieri degradati, dove c'è questa gente povera, glielo leggevo in faccia, che era povera di soldi, ma era anche povera di spirito, perché ormai è sfiduciata completamente nei confronti dell'istituzione. Ma talmente povera che mi è venuto veramente un po' di tristezza. Ma siccome sono un ribelle e lotto sempre per le cose difficili, lei ricordava la mia professione, è 43 anni che sono la toga e alla fine io amo le cose difficili, io mi voglio impegnare per aiutare questa gente. Se me lo consentiranno gli elettori. Concludo con una frase, non so se lei si ricorda, che poi mi cambiò la vita l'incontro per l'amicizia con Enzo Tortora. Enzo Tortora, in un processo d'appello, va via facendo questa dichiarazione spontanea. Io sono innocente, speriamo che lo siate anche voi, dice i giudici. Una frase forte. Io ai cittadini catanesi dico, io sono figlio dei catanesi, sono catanese, ho quattro figli catanesi, quindi siamo ricatani. Io dico ai catanesi, io mi sto impegnando e mi impegnerò. Impegnatevi pure voi col vostro voto. Grazie all'avvocato Bettino Piper. Grazie a tutti voi e arrivederci al prossimo appuntamento.